ciao a tutti benvenuti alla rassegna stampa di scazzo moderato oggi cominciamo parlando di cinema uno dei miei argomenti preferiti e proprio nella giornata di oggi viene rilasciato nelle sale italiane un nuovo cine fumettone preso dai comics della marvel con protagoniste tutte donne si chiama madame web e godiamoci il provino insieme così vediamo se vale la pena da stasera andare al cinema passare un paio d'ore con dell'intrattenimento vero di qualità ehi forza prendete tutto andiamo riproviamoci una settimana fa la mia vita era una corsa contro il tempo sono qui per aiutarla ok ma in un momento tutto è cambiato andiamo bentornata nel mondo dei vivi io non riesco a spiegarmi sapevo che sarebbe morto credo di vedere il futuro New York City ha raggiunto il livello massimo di follia New York City ha raggiunto il livello massimo di follia è un'emergenza scendete subito quell'uomo vuole uccidervi cosa? che sta succedendo? io vedo il futuro questo non l'ha previsto? non funziona così quell'uomo è Ezekiel Sims era in amazonia insieme a mia madre quando studiava i ragni ecco che sei vivi nel mio palazzo tu sei il paramedico? si e mi hai quasi messa sotto va bene basta mi fermo qui ci sono altri 30 secondi ma direi che mi posso fermare qui quindi Marvel il film si chiama Madame Web quindi collegato ai personaggi dell'uomo ragno con un cast tutto femminile vediamo il regista chi sarà mai anche la regista è una donna quindi un cast tutto femminile con una donna che porta avanti un progetto nelle sale cinematografiche una donna di grande esperienza il cui primo film è questo già dici ok vai a vedere il curriculum lei ha fatto dei telefilm per carità sicuramente è una bravissima artista ma gli han dato un progetto Marvel come primo film non è che gli hanno detto fai prima qualche altro film vediamo come te la cavi con i film d'azione no no ovviamente nell'ideologia moderna americana se tu prendi una donna regista hai già fatto tombola non c'è bisogno di altro l'identità politica l'identità il genere sessuale l'identità le idee politiche di un professionista valgono prima della sua professione quindi sicuramente lei sarà una che ha delle idee totalmente innovative ora io ho fatto questo fermo immagine esattamente nel momento in cui lei dice il personaggio principale di Madame Webb è una donna forte, brillante un vero molto forte molto brillante un vero supereroe ed è qualcosa che non si era mai visto prima non si era mai visto prima io penso che negli ultimi 5 anni il 70% dei film d'azione o di supereroe o di fantascienza ha come protagonista una donna forte brillante cazzuta che non deve chiedere mai che è sostanzialmente un uomo con la gonna e che è l'uomo femminismo trasferito in pellicola sono tutti uguali i personaggi femminili sono tutti uguali addirittura proprio ieri sera avevo da qualche giorno iniziato una serie su Netflix che si chiama Reality Z che pensavo fosse ho detto vabbè sembra un incipit interessante ovvero la storia praticamente è una serie tv ambientata in Brasile fatta in Brasile ok a Rio de Janeiro sono al terzo episodio adesso dove ci sono c'è l'invasione degli zombie non si sa da dove arrivano ma a un certo punto ci sono gli zombie dappertutto però stanno girando negli studi televisivi di una emittente stanno girando un reality show che è tipo il grande fratello con un gruppo di persone chiuse dentro una casa totalmente isolati dal resto del mondo che si chiama Olimpo quindi tutti i personaggi in realtà sono travestiti come delle divinità e c'è chi si fa chiamare Afrodite chi si fa chiamare Apollo chi si fa chiamare Zeus ok e la cosa così che ti stimola un pochino la curiosità rispetto magari a altre migliaia di film di zombie che ci sono è che in questo caso diciamo la storia si basa sul doppio livello perché i personaggi all'interno della casa non sanno tutto quello che sta succedendo fuori ok secondo voi esiste un protagonista femminile cattivo io dopo tre episodi non l'ho ancora trovato gli unici personaggi negativi di tutto il telefilm sono i maschi la protagonista principale è una donna forte piena di positività sicura di se stessa bisessuale e il bello di tutto che poi vai a vedere le interviste dei registi e ti dicono ah ti ho messo la donna bella forte sicura di sé una vera supereroina una cosa che non si è mai vista prima e già lì capisci il livello di straniamento di discontinuità di come si dice di scontatto di scollegamento scusate totale dalla realtà che vivono tutti i giorni come fai a dirmi va bene comunque sarà sicuramente un bel film perché quando prendi se prendi la regista donna mi fai le interviste per dire guardate abbiamo una regista donna non può non essere un bel film abbiamo preso una donna il cast quattro sono tutte femminile bene vado a vedere questo in America è già uscito allora io vi ho detto oggi viene rilasciato in Italia ma in realtà in America è già stato è già nelle sale e alcune persone su Twitter si sono messe a fare una cosa che non ci avevo mai pensato ma è troppo divertente ovvero vanno sui siti del cinema del loro paese a comprare il biglietto del film e quando tu compri il biglietto online adesso puoi scegliere i posti ma nel momento in cui puoi scegliere i posti ovviamente vedi anche quali posti sono disponibili o meno quindi sai quanto la sale è pieno o meno ed è pieno di gente che fa lo screenshot prende la foto del sito del cinema dove fa vedere che praticamente a tre ore dall'inizio del film loro possono scegliere qualsiasi posto perché la sala è completamente vuota non ci sono biglietti prenotati cioè guardate che roba guarda guarda questo qua praticamente due biglietti due posti prenotati ok indietro questo qui ha dieci posti prenotati questo due quattro sei sette sette posti prenotati è bellissimo cioè questo è il weekend di apertura cioè il fine settimana di apertura di un film è sempre quello in cui si incassa di più ok e questo qui è vuoto i cinema sono vuoti già dall'inizio questo qua guardate quelli in blu sono i posti liberi quelli in grigio sono quelli comprati cioè praticamente il quindici per cento il venti per cento della sala esageriamo il venti per cento della sala è occupato e vedi qui c'è questo qua per esempio puoi vedere madame web in imax ai tlc chinese theater quindi è bellissima sta cosa non ci avevo mai pensato ma è geniale su twitter è pieno di gente andiamo a vedere se qualcuno per caso ha già riportato quelle che sono le prime recensioni della critica no sul film abbiamo questo articolo su cinema punto every eye punto it a cura di Alessandro Dendusa che riporta le critiche al film fatta in America dove il film è stato rilasciato madame web le prime reazioni bocciano il film sony un disastro dopo la conferma della presenza di due personaggi fondamentali di spiderman in madame web ecco che arrivano le prime reazioni dalla rete riguardanti la pellicola sembra che il nuovo film sony con protagoniste Dakota Johnson Sidney Swidney e Isabella Merced non sia stato ben recepito dal popolo del web sui social x fioccano le opinioni negative madame web è un disastro imbarazzante stelle di talento sprecate per il peggior film sui fumetti che io abbia mai visto pieno di dialoghi atroci montaggio imbarazzante e una struttura tutto sommato ridicola va bene non vi leggo il resto dei commenti qua ce ne sono vari non ci interessa il punto è che alla Sony hanno preso un personaggio che non interessa a nessuno super secondario nel mondo dei fumetti ma semplicemente quando hanno scoperto adesso vi spiego come è andata la cosa perché me la sono studiata bene quando hanno scoperto che alla Marvel stavano facendo un film che si chiamava The Marvels all'inizio doveva essere capitano Marvel 2 con solo supereroine femminili e con una regista femminile quelli della Sony perché infatti basta vedere le date di rilascio hanno detto aspetta un attimo se quelli se i Marvel Studio stanno facendo questa cosa qui facendo tutto il film col cast femminile con la regista femminile eccetera sicuramente andrà bene allora lo facciamo anche noi e quindi cosa facciamo vabbè noi abbiamo abbiamo ancora i diritti di tutti i personaggi dell'uomo ragno prendiamo un personaggio totalmente inutile Madame Web che fra l'altro nel fumetto ha 70 anni e la trasferiamo in Dakota Johnson che ne avrà una trentina quindi hanno anche di nuovo comunque cambiato anche il personaggio come gli pareva loro senza nessun rispetto per il materiale sorgente originale del fumetto dove Madame Web è un'anzianotta e l'ha trasformata in una donna d'azione facciamo la stessa cosa andrà bene tanto se la stanno facendo loro però non avevano calcolato che nel frattempo il film The Marvels è uscito è stato un flop clamoroso hanno perso centinaia di milioni di euro e adesso i geni anche loro perdiranno decine se non centinaia di milioni di euro perché tanto questi film non costano poco anzi sono veramente dei salassi a livello economico bene quindi anche oggi vi do una buona notizia una notizia gioia si festeggia un altro disastro walk un altro disastro basato più su sui preconcetti ideologici per cui farò un film di sole donne e tutti i fan dei fumetti che sono per lo più ragazzi bianchi andranno a vederlo ecco mi sa che anche sto giro non ha funzionato benissimo la vostra teoria cari i miei studios walk hollywoodiani bene detto questo spero di avervi dato qualche informazione utile qualche spunto di riflessione come sempre se vi è piaciuto questo video vi invito a dare un cazzottone al pulsante mi piace e condividelo per far sapere ai vostri amici come sono vincenti le idee degli artisti progressisti perché questo è il punto fondamentale il progressismo sta distruggendo l'occidente in qualsiasi settore economico ivi compreso l'intrattenimento e detto questo ci vediamo al prossimo video state informati ciao